violante, che è stata proposta e votata un po' da tutti nell'altra legislatura, poi finiva e è stata un po' lasciata lì. Ma ripeto, se vuoi dare una spinta, c'è una frase americana che fa un certo senso, che dice è difficile che i capponi votino per l'anticipo del Natale, essendo il piatto prelibato e designato per il Natale. Allora una buona spinta popolare può servire a superare degli umani e naturali fattori ostacolo, dato quello che credo sarà un obiettivo comune di tutti, ridurre il numero dei parlamentari e fare una Camera politica alla Camera e una Camera piccola, federale, al posto del Senato. Lei sta all'opposizione, non ero nei casini?